Da anni non si vedeva una piazza Matteotta Sarzana così affollata per un evento culturale di grande musica. Il Sarzana Opera Festival ieri sera con le musiche di Ennio Morricone ha fatto veramente il botto e si è definitivamente affermata come una delle più prestigiose manifestazioni del calendario sarzanese. Prima l'abbraccio affettuoso dei cittadini di Sarzana e non solo a Katia Ricciarelli che ha presentato le sue pubblicazioni, un'autobiografia piacevole ricca di aneddoti da donna a donna, un confronto tra la sua vita e la vita dei numerosissimi personaggi femminili che ha interpretato nel corso della sua splendida carriera artistica ed un secondo libro in cui presenta ai bambini il melodramma e la lirica con quella semplicità e simpatia da carpirne l'interesse e la curiosità. Poi le musiche di Ennio Morricone con le grandi colonne sonore nelle migliori produzioni cinematografiche internazionali che hanno pervaso la piazza in una atmosfera particolare tanto da emozionare e persino commuovere i tantissimi convenuti. Questa sera alle 21 sarà invece l'oratorio Santa Croce in pieno centro storico ad accogliere la rappresentazione della petite messe solenneil di Gioacchino Rossini con un preannunciato nuovo successo di pubblico. Un preludio di grande rilievo alla serata di domani dove i tantissimi giovani cantanti lirici si contenderanno l'ormai prestigioso premio Spiro Sargiris, il concorso nato per far studiare e lanciare giovani cantanti nel mondo della lirica. Così la signora Ricciarelli nella nostra intervista. Ieri c'è stata l'inaugurazione del Spiro Sargiris, il Sazano Opera Festival 2016 e oggi è iniziato proprio la selezione dei giovani talenti della lirica. Vogliamo dare un incoraggiamento ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera? Beh sicuramente di fare concorso è una cosa bellissima ed è giusto che loro ci provino ma soprattutto è giusto, è indispensabile che si mettano a studiare tantissimo perché vincere un concorso è una cosa bella sì d'accordo però dopo non si è arrivati insomma ecco non è la televisione che ti fa vedere un'apparizione e poi viene declamato il vincitore come se fosse qualcuno che è già arrivato in realtà deve ancora camminare quindi deve studiare tantissimo. Questo che io vorrei che i giovani non si lasciassero coinvolgere dal facile successo. No, bisogna studiare, studiare guardi io non voglio stare a dire quanti anni ho ma non ha importanza tanto poi lo sanno quasi tutti spero quasi tutti ma ancora sto studiando quindi non si smette mai di studiare se si vuol fare una carriera importante e duratura quindi ai giovani consiglio di non avere fretta di avere fretta di imparare sì di studiare ma poi di ricominciare ancora tutto da capo sempre. Una promessa la rivedremo il prossimo anno qui al concorso lirico di Sarzana? Sì credo che il prossimo anno mi vedrete per tutto il tempo quindi mettetevi l'animo in pace.